Ben trovati, continuano a giungere notizie devastanti per il nostro paese, sì, perché nel 2013 sono previsti 3 milioni di disoccupati e man mano che passano i mesi pensionati sempre più poveri, pensionati sempre meno capaci di giungere a fine mese, di pagare un affitto, di aiutare i propri figli disoccupati, perché questo è l'altro dramma e questi signori nel nostro paese, sui nostri territori a cosa pensano? Alle primarie, a come fottere l'altro candidato delle primarie attraverso regole ferree e gli altri, quelli che si affacciano alle primarie in difficoltà, perché pian piano qualcuno si sfila e non vuole confrontarsi con Alfano perché non vede una reale prova di forza democratica all'interno del centrodestra, non ultima proprio la santa che starebbe ripensando al suo impegno nella competizione di dicembre. I problemi avanzano sempre di più e abbiamo visto negli States la campagna elettorale, i dibattiti televisivi e anche a conclusione il savoir faire di Romney rispetto a Obama e viceversa. I dibattiti erano incentrati sull'economia, sulle difficoltà dei cittadini, su quello che si proponeva, al di là poi se sarà o meno mantenuto, non una parola sulle alleanze. Qui si parla delle alleanze, della possibilità da una parte di stare con Casini e con Vendola, il diavolo e l'acqua sante e dall'altra di tenere o meno unito un centrodestra ormai quasi inesistente, perché è andato via il capo Berlusconi Berlusconi che non vuole le primarie, tra parentesi, perché comprende che sono una presa in giro o che potrebbero essere una presa in giro e quindi alleanza sì o alleanza no con Maroni. Abbiamo Formigoni che invece di fare l'arrogante, ed è una persona che è estimabile anche per cultura, dovrebbe avere solamente il buon senso di dire ora dopo la conclusione di questo ventennale impegno alla presidenza della regione Lombardia, ritorno a casa, ritorno in comunione e liberazione, mi ritiro nello spirito che mi ha animato in questi anni, ritorno nelle cooperative bianche, basta non voglio più far politica, nulla, nulla di tutto ciò noi riusciamo ad ascoltare. A me non piace usare il termine rottamare, rottamare significa demolire, a noi non deve riguardare demolire il politico in quanto tale, noi dobbiamo demolire una concezione della politica errata specialmente negli ultimi 18-20 anni e dobbiamo rigenerare questa, però attenzione, come si può rigenerare se poi i capi e i capetti metteranno in lista o metteranno nei collegi, perché ancora non si capisce come si andrà a votare ad aprile del prossimo anno, i propri lecca glutei, sì perché solo quelli possono far strada in Parlamento per garantire il capo di turno, perché leader veri non ce ne sono, i leader aggregano su una grande idea, su un grande progetto, in Italia ormai da 20 anni abbiamo capetti che riescono ad aggregare, a tenere unite nella gestione del potere nazionale e periferico, non c'è indotto per il carisma, per quella forza spirituale e ideale, no non c'è nessuno, veniamo in Puglia, il dibattito, aumentano in modo vertiginoso i cassi integrati, che cosa significa questo? Meno soldi nelle famiglie e alle famiglie, crisi economica delle aziende e su cosa dobbiamo intervenire noi, cosa leggiamo noi invece sui quotidiani regionali e territoriali? Se il prossimo presidente della regione Puglia dopo che il fantasma vendola si sarà dimesso perché ricomincia la scalata nazionale dopo 13 anni già in Parlamento, passati dall'ex esponente prima del PC, poi di fondazione comunista e poi di Selle, se il futuro nuovo governatore della regione Puglia nel centro-sinistra sarà Emiliano o meno, intanto i cassi integrati a Bari e nel Salento aumentano, oppure dall'altra parte il dibattito per la partecipazione democratica degli elettori e dei militanti del centro-destra e ancora non si comprende chi potrebbe essere eventualmente il futuro candidato. Ecco, tutto ciò porterà ulteriormente ad un allontanamento, forse come ho già detto nei giorni scorsi che la stessa politica auspica perché poi pochi voti potrebbero essere, anzi saranno più controllabili e si vincerà col minor numero di voti, mentre qualcuno filosoficamente, politicamente ci insegnava che quanti più voti c'erano e quanta più partecipazione era garantita, più dignità alle istituzioni democratiche veniva data, ma il mondo ormai va in modo inverso. A domani.